Buongiorno, benvenuti, sono le 7 del mattino e questa è la rassegna stampa di Omnibus News, oggi è giovedì 6 febbraio e oggi sono un pochino meno, diciamo si sta sgretolando al fronte compatto dei quotidiani che per giorni hanno aperto e titolato solo ed esclusivamente sul coronavirus, ci sono altre notizie che arrivano e che premono anche perché quelle che riguardano il coronavirus diciamo in questo momento tutto sommato sono più o meno quelle, in realtà c'è una novità, è una novità sulla quale ovviamente si discute e infatti è oggetto non a caso della portura del Corriere della Sera, ma c'è poco altro diciamo e allora andiamocela a vedere subito, qual è la novità? Eccola qua, la corsa per la cura del virus in attesa per l'appunto di trovare un vaccino, ci hanno già spiegato che comunque ci vorranno almeno 6 mesi proprio nel migliore dei casi, se non un anno si spera almeno nella cura e che cosa è successo? È successo che Pechino ha detto che aveva riscontrato diciamo così l'efficacia di un paio di farmaci così come in Francia era stata utilizzata la clorochina che è un farmaco antimalarico ma in realtà l'Organizzazione Mondiale della Sanità come dice giustamente il Corriere della Sera frena e dice non esiste ancora una terapia, una terapia nel senso di una terapia accertata perché queste sono in alcuni casi prove sperimentali in laboratorio alcuni sono stati somministrati ai pazienti ma fino a che non c'è una vera e propria sperimentazione non si può dire che esista davvero una cura. Sono fortunatamente stabili i due cinesi la coppia che è ricoverata a Roma mentre ci racconta ancora il Corriere della Sera man mano che ritornano in patria o ritornano nei vari paesi dove vivono i cinesi in questo caso per esempio coloro che vivono in Italia scelgono una sorta di quarantena fai da te sostanzialmente per tutelare se stessi le loro famiglie ma anche per tutelare ovviamente chi vive e lavora con loro. Di spalle c'è una notizia che vedrete ripresa da molti quotidiani che si interrogano sui reali motivi di questo gesto il Papa congeda padre Georg segretario di Ratzinger viene fatto notare dal Corriere della Sera come tutto questo sia avvenuto dopo le polemiche ricordate sul libro sul celibato quello del cardinale sarà è molto probabile che sia così ma insomma vedremo e ancora a centropagina sempre del Corriere della Sera la politica la discussione di questi giorni sapete sulla questione della prescrizione giustizia e vitalizi di Maio torna e invoca la piazza e in questo senso Di Maio che pur non è più capo politico ha fatto questa diretta facebook invitando tutti a scendere in piazza per il prossimo 15 di febbraio e in molti hanno notato che appunto sostanzialmente manifesta contro il proprio stesso governo vi dicevo titoli per esempio diversi aperture diverse ecco il caso di Repubblica la quale Repubblica va a intervistare la ministra dell'interno Luciana Lamorgese lo fa perché nei giorni scorsi erano arrivate diverse minacce ai danni sia di Repubblica che del suo ex direttore nonché fondatore Eugenio Scalfari addirittura forse ricorderete qualche giorno fa una telefonata che annunciava una bomba nella sede di Repubblica questo diciamo così è lo spunto ma in realtà poi la ministra dell'interno parla anche di altro e infatti il titolo è questo ora per questo governo l'odio è un'emergenza serve un'igiene nelle parole della politica dice ancora la Lamorgese la segre è un esempio portiamo un linguaggio nuovo nel paese cominciando dalle scuole quello che è interessante anche la sottolineatura che viene fatta a proposito delle fibrillazioni del governo e che viene messa non a caso proprio nel titolo di apertura avviso del Quirinale non ci sono altre maggioranze nella legislatura come dire attenzione a quello che fate non a caso sotto vedete se Di Maio va in piazza si sostiene insomma si sottolinea questo aspetto questo ragazzino forse ve lo ricordate Laurent il ragazzino ivoriano che si era nascosto nel carrello di un aereo atterrato a Parigi purtroppo morto perché il viaggio in quelle condizioni era impossibile da affrontare e c'è questo appello a farlo tornare a casa a riavere il suo corpo ho ancora il tempo per farvi vedere la prima pagina della stampa vedete anche la stampa apertura completamente svincolata dalle questioni del virus la foto ci mostra la conclusione del discorso sullo stato dell'unione di Donald Trump ma il titolo si riferisce invece all'impeachment che si è votato questa notte si è chiusa la partita così come si immaginava che andasse con il senato che ha assolto Trump tranne un voto contrario poi lo vedremo Nancy Pelosi strappa il suo discorso dopo che Trump non le aveva dato la mano a centropagina invece il titolo eccolo qua è interessante riguarda per l'appunto le fibrillazioni sulla prescrizione parla il ministro della giustizia Bonafede che dice minaccia il governo se rinviate mi dimetto se rinviate per l'appunto la prescrizione che in realtà è già entrata in vigore come sapete da gennaio ma insomma il tentativo è di rimandarla ancora di un anno le 7 e 6 è il momento della pubblicità e noi come sempre ci vediamo fra qualche minuto 7 e 10 riprendiamo la nostra rassegna stampa ci sono ancora un paio di prime pagine che vi voglio far vedere una è del sole 24 ore anche il sole 24 ore nei giorni scorsi aveva quasi sempre titolato intorno al virus raccontandoci gli aspetti economici legati a questa epidemia oggi invece ci dà una notizia importante sottolinea come per quello che riguarda il bilancio europeo sia stato proposto che gli investimenti verdi valgano anche nei paesi con il debito alto è una notizia importante per noi perché scrive il sole 24 ore le regole attuali sono poco utili per gli obiettivi di crescita e Bruxelles dunque avvia la revisione ne parla anche il ministro Gentiloni il commissario Gentiloni in realtà che dice non escludiamo dalla transazione ambientale i paesi più indebitati insomma le regole di bilancio finora si è visto che non hanno agevolato gli obiettivi di crescita e con questa premessa la commissione europea ha avviato l'iter per la revisione del patto di stabilità per ridare slancio e sviluppo e investimenti soprattutto verdi e quindi per noi dicevo può essere una buona notizia essendo come noto uno dei paesi con il debito più alto le notizie però che riguardano il virus in qualche modo ci sono anche sul sole 24 ore perché se è vero che l'OMS ha molto raffreddato gli entusiasmi di chi diceva abbiamo trovato la medicina però il mercato ci crede investe e scommette diciamo sulle case farmaceutiche che hanno detto noi potremmo avere una cura eccola qua coronavirus i mercati credono all'ipotesi cura una segnalazione importante perché come sapete sono un termometro abbastanza sensibile in mercati non a caso guardate libero eccolo qua il titolo lo fa in modo molto polemico proprio su la Cina che trova la cura e l'ONU che non ci crede quindi il virus farebbe litigare il mondo Burioni ci spera ci fa piacere ovviamente per lui ma intanto resta diciamo così il protocollo scientifico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice nessuna terapia è efficace i morti crescono allora andiamo a vedere ecco qua questa pagina ve la prendo dal messaggero che con questa infografica ci mostra quali sono le zone e i paesi al momento contagiati così come vedete l'Africa per esempio è sostanzialmente immune così come lo è tutta l'America il centro America e il sud America in altre zone a parte la Cina ci sono veramente casi isolati uno in Spagna due come sapete in Italia questa è fondamentalmente la situazione perché ci sono alcuni elementi comunque da tenere presente cioè che il numero dei malati fuori dai paesi asiatici è deciso dalla Cina è basso e quindi fare prevenzione evita la pandemia a proposito del farmaco però ritorniamo sulla questione del farmaco la comunità scientifica si ribadisce è scettica la prima annuncia è stato arrivato questo cocktail di farmaci usati soprattutto per l'HIV arriva dall'università di Zengian e però è stato solo provato in vitro e quindi insomma è davvero un po' presto e allora viene intervistato e ci chiarisce un po' le cose Silvio Garattini è presidente dell'istituto di ricerche farmacologica Mario Negri di Milano e per l'appunto anche lui invita la prudenza dice usiamo solo medicine già esistenti il mix è da sperimentare ovviamente su larga scala sia quello cinese che la clorochina che dice in realtà non è un antivirale ha avuto effetti nelle scimmie infettate dal coronavirus i sintomi sembrano essere migliorati ovviamente si va avanti sulla sperimentazione ma come potete immaginare è ancora presto per cantare vittoria intanto sempre dal messaggero veniamo aggiornati anche sugli altri nostri connazionali bloccati in Cina in particolare ci sono questi 114 studenti per i quali si sta approntando un piano per farli rientrare anche perché ci sono anche connazionali senza più soldi per l'aereo si immaginano prestiti dal consolato ma insomma i voli entro oggi e domani dovrebbero partire e poi come sapete i controlli continui in aeroporto dell'auto quarantena abbiamo che si impongono invece coloro che rientrano dalla Cina soprattutto cinesi perché ci dicono i giornali invece gli italiani che rientrano dalla Cina no non si mettono in quarantena e invece forse dovrebbero farlo anche loro a venire cambiamo argomento il titolo è dedicato all'impeachment di Trump però come vedete a centropagina si parla non solo del virus di chi muore ma anche di chi guarisce ma quello che mi interessava farvi vedere è in realtà questo titolo eccolo qua svelato il blef salviniano sui tagli all'accoglienza perché questo titolo? perché se adesso la regia mi fa invece vedere la prima pagina della verità il titolo di apertura della prima pagina della verità eccolo qua vedete in realtà la verità sostiene che verranno dati più soldi a chi prende gli immigrati e che si ritornerà ai famosi 35 euro a testa non è vero così come racconta a venire e non è vero così come racconta correttamente anche il giornale che pure è molto polemico ecco ci sono eccolo qua con questa decisione del ministero dell'interno e però in modo corretto specifica che in realtà l'aumento è del 10% quindi parlando di sapete che la cifra adesso è fra i 19 e i 23 euro quindi sarebbero 3-4 euro in più per cui non si arriva sicuramente di nuovo ai 35 euro di cui ci parla invece la verità mentre invece il giornale vi dicevo riporta la notizia in modo più corretto abbiamo il tempo di vedere eccola qua allora l'intervista di Luciana Lamorgese la ministra dell'interno che dice non si può essere indifferenti l'odio è un'emergenza parte dalle minacce arrivate a Repubblica però fa un discorso più ampio la ministra che non parla però in questa intervista della questione dell'aumento delle quote del Viminale e dice di Salvini non parlo ma la politica tutta a prescindere dagli schieramenti dalle legittime convinzioni personali ha bisogno di un'igiene delle parole e dei comportamenti anche perché la progressiva assofazione ha fatto già danni questo dice Luciana Lamorgese mentre invece vi voglio far vedere eccolo qua questa pagina della stampa queste indiscrezioni raccolte da Ilario Lombardo a proposito della discussione politica che sta tenendo banco in questi giorni ovvero quella sulla prescrizione l'avviso di Bonafede a Conte se mi chiede il rinvio lascio senza accordo è sfida in aula e scrive per l'appunto Ilario Lombardo se mi chiedono di accentare il rinvio della riforma della prescrizione mi dimetto l'ho detto anche al presidente Conte non esiste lo sfogo del ministro della giustizia Alfonso Bonafede è stato raccolto dalla stampa da ambienti vicini all'avvocato Guido Alpa ambienti che il suo pupillo il premier Giuseppe Conte conosce molto bene e frequenta poi lo sfogo è rimbalzato anche alla Camera tra i partiti di maggioranza e di opposizione questo insomma la questione anche se poi ci dice la stampa il tentativo invece di una mediazione c'è c'è ancora in piedi il cosiddetto lodo Conte Bis ovvero una prescrizione che inizierebbe dopo e poi però prima o poi si arriva allo showdown perché il 24 si voterà il disegno di legge del deputato di Forza Italia Costa che abroga per l'appunto la prescrizione e la maggioranza potrebbe uscirne platealmente spaccata vedremo che cosa succederà intanto come vi facevo notare anche prima nel titolo di apertura di Repubblica però attenzione perché il Quirinale avvisa no a altre maggioranze in questa legislatura insomma se dovesse cadere il governo insomma al Quirinale non piacerebbe diciamo sarebbe per l'idea di andare a elezioni come poi si possa fare non è chiaro visto che come sapete c'è un referendum da votare il prossimo 29 di marzo e poi da ridisegnare i collegi elettorali però questo è quello che diciamo arriva dal Quirinale da tenere dunque a mente abbiamo visto già al titolo di avvenire anche il manifesto è dedicato all'impeachment di Trump volano gli strappi in realtà si parla di più del comizio show sullo stato dell'Unione quello che è stato tenuto ieri e dello sgarbo istituzionale di Trump che non stringe la mano alla speaker Nancy Pelosi e che a quel punto strappa il suo discorso intanto se ne volete però sapere di più sull'impeachment ecco qua sul Corriere della Sera c'è diciamo così quasi minuto per minuto tutto il racconto compresa vedete il voto contrario di Mitt Romney repubblicano per il quale peraltro già oggi Trump ha chiesto la cacciata dal partito mentre parla il suo difensore Alan Dershowitz che dice una condanna ci avrebbe tramutato in un paese europeo infine visto che siamo in America vi segnalo anche il viaggio negli Stati Uniti di Giorgia Meloni ne parla con Carmelo Lopapa sempre sulla Repubblica io dice sono la vera destra pronta a fare il premier Paolo ti vedo in postazione e allora io ho il tempo di far vedere l'ultima prima pagina è quella del Fatto Quotidiano che oggi non ci parla invece di prescrizione ma ci parla di questa sentenza del Consiglio di Stato che dice bollette a 28 giorni i rasse dei telefonini ci devono un miliardo vedremo se ce lo rimborseranno intanto nell'attesa vedo una cartina di nuovo molto pulita grazie c'è un vento che ti trasporta buongiorno bisogna stare ben ancorati questi giorni a terra si è portato via gran parte dello smog e si è portato via anche le nuvole anche credo qualche ramo di albero o cose del genere perché è stato piuttosto forte il raffreddore perché ti senti abbiamo due già due circolazioni che si affacciano cioè una che va via e una che si affaccia quella che va via è questa che interessa lo ionio sono le nuvole che ieri interessavano il sud c'è traccia di temporali e questa è quella circolazione fredda di cui abbiamo avuto un assaggio poi ci sono poche nuvole direi sul resto del sud al centro questa nuvolosità invece che si affaccia da nord ovest è quella nuova ma è quella che c'era prima che arrivasse il freddo sono piccole incursioni di aria leggermente umida dall'Atlantico quindi decisamente di aria meno fredda allora vediamo per tutta la giornata di oggi da dire che queste precipitazioni ancora localmente presenti al sud riguardano la prima parte della giornata perché poi non ci saranno più queste invece debolissime che possono arrivare sulla Liguria soprattutto appunto da ovest nord ovest e queste invece è più facile che si presentino nella seconda parte della giornata c'è questa specie di cambio della guardia giornata di domani al sud qualche nuvola sì ma ormai tutto tranquillo invece si intensificano un poco queste nuvole sulle zone di nord ovest su parte del centro le piogge deboli in Toscana solo sulla parte settentrionale della Toscana Liguria di Levante l'Appennino è una zona climatica tipica perché come avrete fatto caso vanno sempre insieme queste tre zone ci potrebbe essere qualche precipitazione un pochino più consistente isolate quindi non è proprio un maltempo ma qualcosa ci potrebbe essere se no un po' di grigio c'è e se andiamo a vedere anche la giornata di sabato si estende la nuvolosità a quasi tutto il nord con l'esclusione della parte orientale al centro piogge deboli isolate qualcuna raggiunge anche il sud la Calabria e ancora in questa zona fra Liguria vedete proprio qui siamo all'incrocio Piemonte Lombardia Emilia e Liguria c'è una piccola macchia gialla che farebbe pensare anche a qualche precipitazione di una certa consistenza le minime di questa mattina ovviamente molto basse anche al nord però comprese fra 0 e 2 gradi che sono anche sopra la media di già mentre al centro-sud le troviamo relativamente basse però la tendenza a tornare a mettersi in pari a vicino di tornare verso le medie sarà abbastanza rapida lo stato dei mari qui si vede bene proprio il cambiamento vedete che al nord i mari più settentrionali sono ormai tranquilli lì tutto è passato mentre quelli centrali possono essere ancora agitati e poi soprattutto lo ionio la zona in giallo molto agitato significa avere onde ancora superiori ai 5 metri in qualche caso fino a 6 se volete ci vediamo subito prima delle 7.55 adesso pubblicità poi la prima edizione del nostro telegiornale con Flavia Fratello da più tardi